Alla farmaceutica di Putortil Domenica Valeria, sanitaria ortopedia Sita di fronte ospedale Tiberio Evoli, Corso Garibaldi 143, Melito Portosalvo, Info 0965 78 90 54, troverai marchi autorizzati sanitari di calzature ortopediche, come Loren, Dr. Scholl, Sanagens, Deflex e calzature uomo-terapeutiche Bracking. In più, calzature uomo-terapeutiche Sauber, Varimed e Varisan, promozione su aerosol e misuratore di pressione, 50% di sconto su abbigliamento bimbo 0,36 mesi e su tanti altri articoli, cuoricultura leggera NUC, intimo tiunf, corsetteria e pigiameria donna e uomo, se effettua misurazione della pressione gratuita. Farmaceutica di Putortil Domenica Valeria, sanitaria ortopedia Sita di fronte ospedale Tiberio Evoli, Corso Garibaldi 143, Melito Portosalvo, Info 0965 78 90 54. Per Natale, tantissime idee regalo in promozione.